...50 boccadutri favorevoli, 3.425 sottanelli e 3.451 boccadutri contrari. Il boccadutri è ritirato, sì. 3.426 pesco contrario, 3.427 pesco contrario. La ringrazio. Il Governo? Vogliamo dare anche gli aggiuntivi alla zona relatrice? Ah, chiedo scusa, prima di dare la parola al Governo, se possiamo dare anche gli aggiuntivi, chiedo alla relatrice. Dopo l'articolo 3 abbiamo 3.01, 3.02, se possiamo dare anche quei pareri, c'è avvantaggio. Certo, Presidente, scusi. No, prego. 3.01, Paglia, identico il 3.02, Pastorelli, identico il 3.03, Prataviere, identico il 3.04, Roccatelli, identici il 3.05, Vignali e identico il 3.06 all'Asia, contrari. 3.07 pesco contrario. Bene, il Governo? Conforme. La ringrazio. 3.01, Pesco, parere contrario di Commissione e Governo, se non ci sono interventi lo pongo in votazione, dichiaro aperta la votazione. Grazie. 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 Grazie.